Ti ho detto che l'amore a prima vista non esiste? Io la prima volta che sono entrata ad Acqua e Sapone mi sono innamorata e ogni volta che ci torno, perdo la testa! I pannolini e i mutandini Pampers Baby Dry sono perfetti per il tuo bambino perché lo tengono asciutto fino a 12 ore! Non perdere l'offerta sulla confezione da due pacchi! Un pezzo è a 9,90€, due pezzi sono a 18,90€ e tre pezzi a 26,90€. Trovi anche le salviette Progressi Sensitive nella confezione da due pacchi a 4,49€. Elmex è consigliato da dentisti ed igienisti per una migliore salute orale. Offre infatti un'efficace protezione dalla sensibilità dentale e dalla carie. Scopri la gamma completa di dentifrici, spazzolini e colluttori. Acquistando due prodotti di cui almeno un dentifricio avrai in omaggio uno spazzolino. Ho veramente perso la testa, ho comprato tutto! Ma poi a casa mi accorgo sempre che manca qualcosa, così ho la scusa per tornare. Acqua e sapone, oltre la convenienza! Grazie a tutti!